Ricambi batteria iPhone anche se test è ok. Ricambi batteria iPhone anche se test è ok. ANSA. Roma. 3 gennaio Apple sostituirà prezzo ridotto le batterie degli iPhone 6 e modelli superiori, anche se supereranno i test interni di funzionamento. Lo afferma la società della mela morsicata al sito Macrumors fornendo un chiarimento sull'annuncio del programma per la sostituzione di batterie appena partito. Investita dalla bufera scoppiata per il rallentamento degli iPhone P vecchi. Apple nei giorni scorsi si scusata e annunciato che riduri il costo della sostituzione di una batteria fuori garanzia, portandolo da 89 a 29 euro. Per chiunque abbia un iPhone 6 o successivo la cui batteria debba essere sostituita. Questa opzione, valida da subito in tutto il mondo fino a dicembre 2018. Secondo quanto confermato a Macrumors sar disponibile anche per le batterie che superano i test diagnostici di Apple. Dunque indipendentemente dal fatto se conservino o meno l'80% della loro capacità originale. Soglia di riferimento di Apple per le batterie che necessitano riparazioni.